16 febbraio 1907 Muore Giosuè Carducci Titolare della Cattedra di Letteratura Italiana all'Università di Bologna dal 1860 al 1904 pubblica fra il 1850 e il 1860 la sua prima raccolta di poesie Juvenilia cui seguiranno Levia Gravia, Inno a Satana, Giambi e Depodi o Di Barbare Nel 1906, pochi mesi prima della morte è il primo italiano a essere insignito del premio Nobel per la letteratura Grazie a tutti